Svegliato, legato, mani e piedi, poi colpito selvaggiamente con mazze, coltelli e bottigli, una spedizione punitiva, quella del 28 maggio scorso nell'ex scuola di Via Villa a Verona, che doveva servire da lezione al giovane di 26 anni, che il 19 maggio cercò di afferrare senza riuscirci uno dei due profughi finiti nel canale Camuzzoni, rapinato e inseguito. Era stato lui stesso a raccontare alla polizia cosa era successo poco prima, cioè che Inua Abadaliou, 18 anni, originario della Nigeria, e Nasser Musa Abdullah, somalo di 19 anni, erano con alcuni amici nei pressi del piazzare della stazione, quando una decina di cittadini nordafricani li aggredirono e in particolare picchiarono selvaggiamente Nasser per portargli via la bicicletta, ma lui e l'amico erano riusciti a scappare inseguiti da almeno due uomini. La vittima del pestaggio ha riconosciuto qualcuno degli inseguitori dei due ragazzi, lo ha detto agli investigatori, e per questo è stato massacrato una decina di giorni dopo, solo che ha riconosciuto anche le due belve che lo hanno picchiato. I sei destinatari del provvedimento disposto dal PM e ora il GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i cinque che sono stati rintracciati. Tutto è iniziato con la tentata rapina al ragazzino, dunque il pestaggio e l'inseguimento. I due ragazzi avevano scavalcato la recinzione di via Gerolamo Cardinale, sperando di fuggire i loro aguzzini. Nasser, aggrappato alla scaletta di servizio, era entrato in acqua fino alle ginocchia. Era terrorizzato perché il suo inseguitore cercava di afferrarlo per continuare a picchiarlo. A quel punto ha mollato la presa. Il testimone lo avviso a Naspare poi scomparire e un fascicolo è stato aperto anche per questo. La sera del 28 maggio il gruppo era arrivato in via, villa, in taxi. Sì, hanno raggiunto la stanza dove dormiva il testimone scomodo ed è iniziato il massacro senza pietà, torture, botte con qualsiasi tipo di oggetto, tanto da procurargli delle deformazioni permanenti al volto. Una storia di degrado dove un povero, senza fissa dimora, ma con una forte dignità, ha prima tentato di aiutare i due ragazzi aggrediti e poi ingoiati dalle acque, ma è stato a sua volta oggetto di una brutale aggressione una decina di giorni dopo. Con il volto tumefatto, ferito al volto e sulle braccia, era però riuscita a scappare e in strada ha chiesto aiuto a una signora che ha chiamato 118 e 113.